ciao ho appena finito di fare la mia gara di audi 4 ski cup e devo dire che è stata un'esperienza bellissima ed è stata molto emozionante la ricognizione pista che abbiamo fatto questa mattina perché ho conosciuto christian ghedina che ci ha raccontato come sia importante la precisione prima di affrontare una gara quindi controllare lo scarpone che sia ben chiuso controllare che lo scarpone sia in sede sull'attacco dello sci e soprattutto come affrontare i paletti con precisione quindi come curvare quando curvare è da rifare ragazzi ve lo consiglio è una gara incredibile